Come pensa si possa sviluppare invece il contesto barcolana fuori dalla regata, cioè i giorni precedenti e il giorno stesso? Perché immagino che attendersi un villaggio barcolana tra le rive e Piazza Unità è forse un po' difficile quest'anno. Chiaramente quest'anno bisogna tener conto di quelle che saranno anzitutto le misure adottate dal governo e dalla regione Friuli Venezia Giulia, i protocolli per quanto riguarda la parte in mare della Federazione Italiana Aveila. Noi siamo determinati, come dicevo, a organizzare una manifestazione in piena sicurezza. Naturalmente sarà una barcolana un po' diversa da quelle che conosciamo. Ci sarà una parte centrale in corrispondenza del Bacino San Giusto nella quale stiamo lavorando insieme alle istituzioni. Questa mattina abbiamo avuto un incontro molto proficuo, un primo incontro informale in Prefettura. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Comune, con tutte le forze dell'ordine, con la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi, dicevo, un nucleo più piccolo di villaggio. E poi l'idea è quella di creare una barcolana diffusa, una barcolana che possa entrare ancora di più in città per supportare anche tutti quegli esercenti, i ristoratori, i negozianti che in questi mesi hanno avuto una riduzione sensibile, importante dei loro ricavi, perché non ci sono stati i turisti. Chiaramente le persone magari sono più restie a recarsi nei negozi, ad andare a mangiare fuori. Quindi, insieme alle associazioni di categorie, insieme alla Fipe, alla Confcommercio, stiamo cercando di costruire delle occasioni per portare la barcolana dentro la città. Perché la barcolana vuole interpretare quest'anno, più che in passato, la voglia di rilancio, di ripartenza, vuole essere un volano per l'economia di Trieste.